Siete un organizzatore eccellente, tutto vi riesce. Temete di non essere all'altezza del compito che vi affido? No, Eminenza. Se il Signore mi aiuta, io assolverò anche questo compito con pazienza, con umiltà. Allora, di che avete paura? Parlate di ciò che voi chiamate il mio successo, Eminenza. Io sono un povero figlio di contadini. Ho voluto farlo.